Invece il premio Sandro Volchi per la miglior regia va all'iraniano Amir Pazirotte del corto Cylinder. La regia si adatta alla visione del suo giovane protagonista raccontando con la stessa prospettiva di un bambino la drammatica ricerca della libertà e la determinazione nell'inseguire la propria passione. Invito qui sul palco il distributore del corto Media Chiesate sul palco. Come here. Congratulations. Thank you so much. I'm so happy. It's delighted to be in Bulgaria and achieve the award for the name of the Bulgarian director also. And I'm so happy. I'm so happy for Amir and a little bit sorry for he's not here and he's not to celebrate with us. E' molto contento di essere qui e di aver ritirato il premio per il regista e gli dispiace che il regista Amir non sia potuto essere un conno sul palco Boghiera e che però è contento di poterlo ritirare lui stesso. And thanks for first of all thanks Bulgarian festival Mokko such a best friend that I am. And just I want to mention that we need your support all of you for this situation of Iran and this suffering really. I can say that. And I appreciate the women of my country that put their lives on the line against the government. Thank you. I don't know what should I say. Thanks again and such a pleasure to me to be with you part of this festival. and visit your historical and grand city and be with you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. So this is your work. Thank you. Thank you very much. Thank you very much.